Un buongiorno a tutti ma un buongiorno particolare ai possessori di Samsung Galaxy 8 e di Note 8 Chi ha utilizzato questi telefoni e li utilizza tuttora sa benissimo che il pulsante e la funzione legata a Bixby onestamente stanno lasciando un po' il tempo che trovano Uno perché la funzione, l'assistente in italiano non arriva e non arriverà ancora a brevissimo non si sa esattamente quando sarà il rilascio della traduzione in italiano e due perché comunque le funzioni per il momento sono estremamente limitate e l'accesso a Bixby onestamente dal mio punto di vista si limita alla lettura delle notizie cosa che troviamo in tantissimi altri telefoni e questa cosa indubbiamente ha creato un po' di malcontento tant'è vero che sono nate delle app che permettevano la rimappatura del pulsante ma questo è un po' un tappabuchi bastava veramente che Samsung si mettesse lì e dicesse ok, Bixby non sta funzionando esattamente come vogliamo, siamo più lenti del previsto permettiamo almeno ai nostri utenti di gestire il pulsante come vuole lui diamogli la possibilità che premendolo faccia l'azione che vuole questa cosa ancora non è arrivata però è stato fatto un piccolo passo avanti nell'ultima release software dell'app di Bixby ci è data la possibilità quantomeno di disattivare la funzione di Bixby alla pressione del pulsante stiamo parlando della pressione immediata sarà sempre possibile accedere a Bixby tenendo premuto il pulsante però premendolo così diciamo in maniera istantanea Bixby non si attiverà questa funzione non è ancora probabilmente presente su tutti i telefoni perché riguarda uno degli ultimi aggiornamenti quindi dovete aggiornare per forza il telefono e l'app però è sicuramente in roll out cioè sta arrivando sui telefoni e a breve sarà disponibile per tutti noterete un avviso probabilmente una volta che accederete a Bixby e poi ci sarà un pulsantino apposta che vi permetterà appunto di attivare o disattivare il pulsante con la pressione singola si tratta indubbiamente di una buona notizia ma una buona notizia a metà la vera notizia ci sarà quando Samsung darà la possibilità ai propri utenti di rimappare completamente l'utilizzo del pulsante Bixby e questo perché comunque veramente Bixby non ha appreso più di tanto non ha convinto e non si tratta soltanto della mancanza o meno della lingua italiana perché comunque anche oltreoceano non è che ci sia tutta questa gran soddisfazione relativamente all'assistente di Samsung e quindi onestamente è veramente un peccato avere un telefono così fatto bene con un pulsante che onestamente può dare sicuramente un contributo maggiore è tutto per questo piccolo aggiornamento veloce che però riguarda una novità secondo me importante perché secondo me ci sarà questo step evolutivo successivo e quindi è tutto da MyTechnology e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao